Ho comprato un biglietto di gratte vingi all'edicola vicino alla stazione, sono andato in treno a Milano, durante il treno grattato c'erano un sacco di zeri più uno, forse era un biglietto molto vingente. Poi sono andato a Milano, mi ha fermato la polizia, mi ha sequestrato il biglietto. Poi dopo un tempo mi ha chiamato a Reggio e mi ha dato il biglietto. Sono andato a ingassarlo, c'erano un milione di euro o qualcosa, qualche migliaia di euro. Ho ingassato tramite il sindacato, gli ho dato il biglietto e me l'ha ingassato loro. C'erano un milione di euro, no qualche migliaia di euro, così. Biglietto vecchio, biglietto vecchio, biglietto vecchio, biglietto vecchio.